Buonasera a tutti. Vi comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come Governo su un presupposto. Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Io stesso lo sto sperimentando, ho la massima comprensione per tutti gli italiani. Capisco le famiglie, i giovani che nel tempo libero sono soliti andare nei centri commerciali, frequentare i propri coetanei, riempire bar, ritrovarsi a gustare un aperitivo, un momento di socialità. Sono abitudini che ragionevolmente con il tempo, alla luce delle nostre raccomandazioni, potranno essere modificate e anche adattate alle nuove esigenze. Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. In particolare ai loro cari va tutta la vicinanza nostra del Governo e penso di poter interpretare di tutti gli italiani. Le nostre abitudini, quindi, vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia e quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. E' per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del Governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini, che vorrei ricordare è il nostro obiettivo primario, pur contemperando, cercando di contemperare fin quanto possibile anche altri interessi che meritano di essere tutelati. Ma se la salute dei cittadini, la salute pubblica è un bene che è messo a repentaglio, noi siamo costretti a scegliere e imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi, pur meritavoli di tutela. E' per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola, gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze, comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani, abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche dove l'amo vita, c'è molto divertimento, si consumano anche delle bevande al di fuori dei locali e dei bar. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità nell'adottare queste misure per tutta la penisola, ma sono costretto a intervenire in modo ancora più deciso per proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e più vulnerabili. Viviamo in un sistema in cui noi garantiamo la sanità e il diritto alle cure e alla salute a tutti. È un fondamento, un pilastro e direi la caratteristica del nostro sistema di civiltà. Non possiamo quindi permetterci su questo di abbassare la guardia. Oggi è il momento della responsabilità. Noi tutti abbiamo una grande responsabilità. Voi con me, voi cittadini tutti con me. Penso anche a tutti i medici, gli infermieri che sono in trincea in queste settimane, che lavorano senza sosta, stanno facendo di tutto, con turni molto impegnativi per assistere e curare le persone contagiate dal coronavirus. Oggi nel prendere queste misure dobbiamo pensare anche a loro, che rischiano pensate con grande gesto di solidarietà la propria salute per curare la salute del prossimo. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro, dell'Italia, è nelle nostre mani. E queste mani devono essere mani responsabili. Oggi più che mai. Ognuno deve fare la propria parte. Ed è per questo quindi che da oggi varranno su tutto il territorio della penisola queste misure che noi abbiamo già predisposto per la parte settentrionale, come sapete, Lombardia più provincia, in più province, giusto qualche giorno fa. Abbiamo anche adottato in aggiunta un'altra misura per quanto riguarda le manifestazioni sportive. A questo punto, in questo contesto, non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni, le gare, le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio. Quindi dispiace dirlo, ma tutti, anche i tifosi, devono prenderne atto. E non consentiremo neppure che possano essere utilizzate le palestre per ovviamente lo svolgimento di attività sportive. A questo punto, se c'è qualche domanda, prego. Signor Boneri, News24. La decisione è molto difficile. Le volevo chiedere se queste norme entrano in vigore da questo momento e se c'è una data.